Ehi, buongiorno, chi è Francesco? Sì, sono Francesco, salve, sono il dottor De Pace da Benevento, da parte dell'infermiera La Caposala di Stazio. Ah, salve. Buongiorno a lei, la disturbi un buon momento? No, mi dica, sì, sì, tipo Rampiclocchi, mi dica, mi dica. No, le volevo dire, siccome noi siamo un po' perplessi in virtù della qualità di questo nuovo prodotto, questi pannoloni, anche perché i degenti, le dico la verità, anche loro stessi si sono lamentati, sta succedendo veramente di tutto, non so, forse vi risulta che è uscita qualche partita un po' difettata. Ma allora, dottore, possiamo verificarla questa cosa? L'unica cosa è che la gara nuova ancora non è partita, dovrebbe partire dal primo marzo, quindi il pannolone nuovo non è ancora stato. E quindi che sono questi vecchi, che sono i vecchi, che già fanno schifo che si cavecchi, quindi? Sono i vecchi, però sarà capitata per una partita, credo. E ho capito perché vi spiego, noi abbiamo questi pazienti qua nel reparto numero 4, che credetemi, non è per cattiveri, capite, ma a me non voglio essere troppo esplicito, ma tutto il solo, fino a ieri erano bianche, ma sono tutto quanto marroco. Ma voi state parlando del che ospedale? Guardate, io non so se sapete che per la privacy, io vi ho fatto i nomi delle persone, non posso fare i nomi degli ospedali perché le nostre telefonate sono registrate. Io mi metto in prima persona, ovviamente, in gioco, però l'infermiera è stata esplicita. Guardate, non è per cattiveri, voi, se voi volete, se mi date un indirizzo, io magari con un corriere, in maniera celere, vi mando proprio un bel pannolone usato, così voi potete verificare magari la perdita dove sta. Ma io volevo chiedere, tu che sta parlando della gara d'incontinenza? Sì, sì, sì. Eh scusate, un attimo incontinenza, come mi mettevi io? No, no, la gara, sto dicendo, della gara. Sì, sì, ma la gara d'incontinenza, cioè che vuol dire? La gara a chi cacchio assai? La gara domiciliare, la gara domiciliare, la gara di quella, dell'Asia. Sì, sì, dell'Asia, eccetera. No perché sapete, ovviamente mettetevi nei panni di uno che non ha questa tipologia di competenza, no? Ma certo, vedete, la gara d'incontinenza, che vuol dire? A chi si fa a chi sotto? No, no, io entrivo perché non avendomi detto la struttura pensavo che si trattava di una cinta, di una cosa. No, 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 è la gara, è la gara d'incontinenza. Aspettate un attimo solo che stanno parlando, un attimo che è, ditemi signor Antônio. Aspettate, sto apposto a telefono con il signor dei pannolini, aspettate un attimo. Capo attaccato. Sto vedendo ma mi sono attesa. Fingiamoci esperti. Pronto? E buongiorno, salve, non è il signor Raffaele, presumo. No, non è Raffaele. E no perché io chiamo per questa splendida penna Borghini che ho trovato in vendita, però c'era indicato che mi avrebbe risposto il signor Raffaele. No, ma ti figuri, è il mio marito, voglio dire, io sono spesa a fare jogging, ma so perfettamente di cosa... Ma guardi il mondo come piccolo, ma lei lo sa che io appena 15 minuti fa ho smesso di fare jogging perché è una disciplina che mi piace particolarmente. Ah, ma giusto? Io mi mantengo in forma. Guardi, da quando faccio jogging elimino tutte le tossine. Anche io elimino le tossine, non ho fatto tossine, però è una questione di stress, dell'innastress. È vero. Lei ha notato, lei mi perdonerà se io divago rispetto all'argomento trattato della penna, però sa, quando trovo una persona gioviale, gentile come lei e che tra le altre cose condivide una passione come il jogging. Mi piace discorrere, anche perché le dico la verità, è piacevole anche sentire... Lei ha notato per esempio che quando si fa jogging si sentono degli odori che uno avrebbe tralasciato. Bravo, bravissimo. Pace quando si fa jogging. È vero. E poi guardi, le dico la verità, correndo un po' di qua e un po' di là, si notano per esempio dei particolari magari di una strada che uno vede tutti i giorni, ma sai, come avrebbe detto, ma guarda quell'angolino per esempio, non avevo mai visto che dietro quell'angolo c'era per esempio quelle figie gialle, sa? Sono delle cose che lasciano... Sì, mi dica. Le dico la verità, ho visto che se lo scrivo nel mio cellulare mi compare il numero privato. Ah sì, mi deve perdonare, quando chiamo dall'ufficio, se vuole le posso rendere il mio numero personale, cosicché lei lo possa anche adoperare. Perchè sinceramente la volevo far parlare direttamente con mio marico, la penna è buonissimo stato. Sì, sì, ma torniamo a parlare del jogging, lei fa jogging in zona sua, in zona pomigliano. Io? Sì, diciamo pomigliano, no, io mi sposto, ogni mattina cambia. Ah, ogni mattina cambia. Ho capito, no, perché io sono a Brusciano, non siamo lontani, però è anche vero che magari, io le spiego, io sono uno di quei personaggi che quando fa jogging, ormai sono anni che lo faccio, al di là del guardare un pochettino le varie cose, il sentire gli odori nostrani del mattino, a me mi piace a sé guardare i femmina che fanno jogging. Ma da credi quando vi è una bella femmina che fa chioppe, 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 e chioppe. Ma ve lo dico veramente senza il minimo imbarazzo, io a un certo punto, capite ma a me, è come se sentissi proprio l'odore del feromone. E dico, allora, lei mi vuole lasciare il suo numero, così la posso contattare. Ma io le lascio quello che vuole, signora, oltre il numero lo servo cata cosa. No, no, per ora grazie, non mi serve niente. Per ora, per ora, perché ancora non mi ha visto, signora. E quando mi metto completini mi vado a fare jogging, chioppe, 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 chioppe. Ma qualche volta potremmo anche correre fianco a fianco, che ne dice? E' difficile che vado a fare jogging con qualcuno. E vabbè, ma perché voi non mi avete visto a me correre. A me mi chiamavano Carl Lewis. Io faccio da 0 a 100 in 39 secondi. E' perso non posso stare a suo passo, quindi. E lo so. Guardi, mi legga tra le righe. Io sono veloce quasi in tutto quello che faccio. Ho capito. Poi ci stanno certe cose che faccio proprio bello lento. E' che boffa, io boffa, ero per un scherzegist. Io ci riusci a vedere, che boffa? O manaccio a chi è qui nello?